Tragico incidente stradale a Loreto, morto e due feriti. A Senigallia un uomo trovato senza vita in mare nella zona del porto. Terza dose obbligo vaccinale, abbiamo sondato gli umori della gente. Uno deve essere libero di scegliere quello che vuole, perché con i vaccini c'è gente che è stata bene, senza provare c'è gente che è stata molto male. E così col Covid però, no? Sono contrario alle imposizioni, agli obblighi, in particolare quando riguardano frattamenti sanitari sul nostro corpo. Famiglia di quattro persone evacuata a San Costanzo, crepe nei muri di casa e problemi di staticità. Sindaco firma l'ordinanza. A Fano si accendono i fornelli per il Brodetto Fest, uno dei piatti tipici della cucina fanese. A Pesaro invece si apre la fiera di San Nicola. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Sul canale 17 c'è Occhio alla Notizia. Apriamo con l'incidente mortale che è avvenuto nella giornata di oggi a Loreto, sulla stada statale 16. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro auto e una moto. Secondo i primi rilievi dopo il frontale, il Centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per intralciare in modo trasversare la carreggiata e coinvolgendo così anche altre vetture. Il bilancio è drammatico. Due persone rimaste ferite sono state estratte dalla lamiere dei vigili del fuoco di Osimo in collaborazione con i sanitari del 118, mentre il motociclista purtroppo è morto sul colpo. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Torretti di Ancona, mentre la circolazione è stata deviata con indicazioni sul posto, dove sono intervenuti anche il personale di Anas e la polizia locale. E un'altra tragedia si è verificata al porto di Senigallia, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un anziano. Il cadavere, recuperato dalla guardia costiera, era stato avvistato tra le onde nella zona portuale. È giallo, però, sulle cause del decesso. Potrebbe trattarsi di un incidente oppure di un gesto volontario della vittima, indagano i carabinieri di Senigallia. E sono stati decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social per la scomparsa del fanese Giuseppe Luzzi, noto come Trens, morto ieri sera all'età di 45 anni per un attacco cardiaco. Luzzi, fratello della consigliera comunale Carla, si faceva benvolere da tutti ed era un grande amante dello sport, dai co-kart al basket fino al calcio. E adesso invece parliamo di sanità, parliamo della terza dose e dell'obbligo vaccinale. Dopo l'annuncio del Premier Mario Draghi abbiamo voluto sentire e sondare un po' il parere della gente. Obbligo vaccinale, terza dose di vaccino ed estensione del Green Pass. Il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha confermato tutti e tre i punti che hanno tenuto banco in questi giorni nella maggioranza che hanno portato allo strappo con la Lega, contrario al passaporto verde e all'imposizione del vaccino. Per quest'ultimo, infatti, si va verso l'obbligatorietà. Si aspetta però che l'EMA e l'AIFA, rispettivamente l'Agenzia Europea per i Medicinali e quella italiana del farmaco, dichiarino chiusa la fase sperimentale. Una nuova stretta, dunque, dal Governo che spacca ancora una volta l'opinione pubblica, ma a Fano in tanti sono d'accordo con quanto annunciato dal Presidente del Consiglio. Posso chiedere anche a lei se è d'accordo su questo obbligo del vaccino, la terza dose? Fa bene per la salute, se fa bene, se è utile, se è d'accordo, sì. Ha qualcuno che ha avuto effetti collaterali, conosce situazioni problematiche? L'ha avuto mio e mia moglie, ha fatto il vaccino a Stasene, quando già era positivo, non lo sapeva, è stata la reazione di là. Da marzo ancora dietro, comunque non sono contrario ai vaccini. Se uno lo fa, se uno lo fa, sta a casa sua. Qual è la sua opinione? Che se uno sta a casa sua fa quello che vuole, ma se va in giro in pubblico a farsi vedere con altri, dovrebbe vaccinarsi, a meno che non abbia motivi medici personali giustificati. Abbiamo fatto a decine tutti, non abbiamo mai reclamato niente, adesso viene fuori. È propenso eventualmente a fare anche la terza dose? Se a livello medico, quelli che sono gli esperti dicono che adesso noi perderemo molto dell'immunità, eccetera, eccetera, come facevamo quella ogni anno dell'influenza, faremo anche questa. Io mi sono vaccinata intanto, però ritengo che la libertà di ciascuno deve essere rispettata. Certo, io farei un invito a tutti coloro che non si sono vaccinati, specialmente i miei coetanei, io sono ormai appassati i 60, di farlo, perché non è un obbligo, è un aiuto che si danno per loro stessi e che danno alla società. L'imposizione non va bene perché in una democrazia, come spero che ancora siamo, l'imposizione non va bene comunque. Io comunque non sono per l'imposizione niente. C'è da fare, è da fare, però... Mi preoccupa un po'? Certo, ci preoccupa come ci è preoccupato fare le prime due dosi, ci è andata bene. Però un po' di timore c'era? C'è, c'è. Intanto la campagna vaccinale procede spedita, come ha spiegato ieri il Premier, sottolineando che il 70% della popolazione è completamente vaccinata. Per Draghi si potrebbe raggiungere l'80% per la fine di settembre. Anche le marche si preparano ad avviare i richiami per i più fragili, ma è ancora da stabilire a quali categorie somministrare la terza dose. Linea dura del governo anche per il Green Pass, che sarà esteso ad altri settori, a cominciare dalla pubblica amministrazione. L'obbligo dei vaccini? Sì. Sì o no? Sì, sì, senz'altro. Bisogna fare così, altrimenti questa gente non lo fa. Non lo fa e quindi diventa un rischio per tutti. Sì, abbiamo vaccinato anche il nostro figlio di 12 anni e il figlio di 21. Hanno tutti vaccinati e siamo pienamente d'accordo. Io sono a favore, perché se lo facciamo tutti, siamo tutti più a posto e non abbiamo bisogno di spendere i soldi negli ospedali. Quindi farebbe anche la terza dose eventualmente? Io la faccio. È d'accordo con quanto detto dal Presidente? Sì, sì, ma io non sono una no-vax, ma sono, come dicono, una free-vax. Uno deve essere libero di scegliere quello che vuole. Perché con i vaccini c'è gente che è stata bene, senza problemi c'è gente che è stata molto male. E così col Covid però, no? Quindi sono scelte individuali che ognuno deve fare in base alla propria coscienza. Io ho paura di vaccinarmi, perché ho fatto un vaccino tempo fa e ho avuto problemi. Quindi ho paura. Però mia madre è vaccinata e non ha avuto nessun problema. Il vaccino per le categorie più fragili? Ma no, per chi è propenso lo deve fare. Chi ha paura, perché poi anche la paura ammazza. Chi ha paura non lo deve fare. Magari col tempo. Io non ho detto che non lo farò mai. Magari tra un anno non lo faccio. Adesso ho paura molto di farlo, perché ho problemi di salute e ho paura di farlo. Punto. Sì, noi siamo d'accordo. Siamo vaccinati anche noi. In Francia ci sono molto gente vaccinati. Sono per l'obbligo vaccinale. Uno si deve vaccinare perché è giusto che si vaccini, perché se no non ne usciamo più. Io sono vaccinata. Non volevo fare AstraZeneca. Sono andata cinque volte al Codoma e c'era sempre AstraZeneca. Ho parlato con la mia dottoressa. Dopo una settimana mi ha chiamato e ho fatto Moderna. Quindi era preoccupata per eventuali effetti collaterali? Troppa confusione. Anche per la terza dose? Non sono un medico. Non posso stabilire io certe cose. Non mi voglio improvvisare come fa certa gente. Non sono un medico. Quindi attende maggiori informazioni? Sì, dalla scienza. E a dire la sua invece sull'obbligo vaccinale, sempre abbiamo sentito oggi Davide Rossi, ex consigliere fanese, quindi comunale, ma anche provinciale, che è nettamente contrario invece. Sentiamo. Alla luce di quanto è emerso ieri, qual è la sua opinione? Io sono un libertario, quindi rappresento quella minoranza che è per la libera scelta. Sono contrario alle imposizioni, agli obblighi, in particolare quando riguardano trattamenti sanitari sul nostro corpo. Ecco, un obbligo di vaccinazione di massa su di un farmaco che, sebbene, dice il Presidente del Consiglio, potrà essere approvato definitivamente a breve, rimane un farmaco nuovo, non sperimentato. Io lo vivo e penso che sia una grossa violenza fatta al corpo di coloro che non sono d'accordo. In questo modo potrebbe poi accadere un altro evento in futuro, quindi un'altra imposizione, dice lei. Sì, secondo me, diciamo anche coloro che sono favorevoli all'obbligo di vaccinazione, i nostri concittadini che in maniera legittima sono favorevoli a questo obbligo, dovrebbero secondo me chiedersi una cosa, se legittimiamo in questo momento lo Stato a imporci un trattamento sanitario di questo genere, imporlo a tutti, indipendentemente dalla scelta personale, lo Stato a quel punto sarà legittimato in futuro anche ad imporci altri pesanti obblighi. Quindi questa volta una persona può essere d'accordo, la prossima volta potrebbe trovarsi di fronte ad un altro obbligo sul quale non è d'accordo. Ma in questo modo ha legittimato un precedente, ha fatto sì che lo Stato avesse la possibilità di imporci cose di questo genere. Secondo lei dei dubbi ci sono anche sugli effetti collaterali? Beh, i dubbi ovviamente ci sono perché, perché essendo un farmaco nuovo, un farmaco non sperimentato nel lungo periodo, le vaccinazioni in Italia, se non ricordo male, sono iniziate a febbraio, quindi anche se il farmaco verrà approvato in maniera definitiva nei prossimi mesi, questo non significa, non toglie il fatto che non conosciamo gli effetti di questa cosa a un anno, due anni, tre anni. Normalmente questi vaccini o farmaci igienici che siano vengono sperimentati negli anni. In questo caso, nonostante che sia stato somministrato a milioni di persone, rimane il problema che non conosciamo gli effetti avversi di qui a un anno, due anni, tre anni. Abbiamo ancora cronaca, un ciclista a Pesaro di 55 anni è stata investita da un SUV, un Audi Q3 che stava uscendo dalla rotatoria all'altezza di via del 900. La donna che ha battuto violentemente la testa è stata soccorsa dai sanitari del 118, hanno allertato l'ambulanza, Icaro ha atterrato all'eliporto vicino alla Vitri Frigo Arena, ha trasportato poi la 55enne all'ospedale di Torrette di Ancona, sul posto, come vedete, la polizia locale per i rilievi di legge. E sempre a Pesaro, invece, due esercizi commerciali sono stati chiusi a seguito di alcuni controlli effettuati dalla polizia e dai vigili urbani. Il primo è un locale di Viale Trieste, dove si erano creati assembramenti di numerosi giovani intenti a ballare, nonostante il divieto imposto dalle misure anti-Covid. L'esercizio è stato chiuso per tre giorni, mentre nel secondo caso, in un altro locale, sempre sul lungomare di Pesaro, erano state servite bevande alcoliche ad alcuni minorenni. Per questo il questore ha emesso un provvedimento di chiusura dell'esercizio per un periodo di 30 giorni. Si avvicina la ripartenza per scuole e servizi da zero a tre anni a fare il punto sull'organizzazione in materia di norme anti-Covid e Green Pass. è l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano, Samuele Mascarin. Letizia Marchionni. L'inizio dell'anno scolastico è alle porte e continuano i preparativi per affrontare e supportare le norme anti-Covid stabilite per la massima sicurezza di studenti e personale scolastico. Mentre per la maggior parte delle scuole i battenti riapriranno il 15 settembre, per i servizi comunali zero a tre anni e quindi nido, sezioni di raccordo e sezioni ponte, la partenza sarà l'8 settembre. Stiamo lavorando per mettere a punto l'organizzazione scolastica, ha spiegato l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano, Samuele Mascarin. L'emergenza sanitaria, prorogata fino al 31 dicembre, prevede per la ripartenza una serie di disposizioni di carattere organizzativo e logistico che ricalcheranno in buona parte quelle dello scorso anno scolastico e quindi già rodate e sperimentate. Quindi disposizioni legate ovviamente all'applicazione dei protocolli sanitari per garantire la massima sicurezza, non solo per i bambini, i bambini, le studentesse e gli studenti, ma anche per tutti coloro che lavorano all'interno del comparto scuola. Riproponendo uno schema che l'anno scorso è stato particolarmente complesso, impegnativo, anche oneroso, è costato un milione di euro per l'intero anno scolastico al comune di Fano, ma ha consentito di contenere tantissimo i contagi e le quarantene all'interno della nostra scuola. Verranno mantenute anche le classi bolla e tutte le soluzioni organizzative messe in campo lo scorso anno per la rifezione ed il trasporto scolastico. Lo riproporremo con lo stesso anche numero di figure, di personale in questi servizi e questo ovviamente avrà un impegno di spese importante di quasi 300 mila euro da qui alla fine dell'anno fino a dicembre, ma lo riproponiamo con convinzione perché abbiamo visto che l'anno scorso ha dato dei buoni risultati rispetto al contenimento dei contagi. Per quanto riguarda il Green Pass, ha continuato Mascarin, l'obbligo di possesso ed il dovere di esibire la certificazione verde per il personale operante nell'ambiente scolastico tocca anche le scuole comunali. Ovviamente noi siamo chiamati a verificare il rispetto di queste disposizioni di legge. Il quadro complessivo nella nostra città è positivo nel senso che la quasi totalità degli operatori, educatrici, insegnanti, sostegno, personale ausiliario, refezione, sono assolutamente in regola. Abbiamo per il momento un'unica eccezione che però stiamo ovviamente affrontando nei termini previsti dal decreto legge. Allora, velocemente anche il bollettino di oggi sul coronavirus. Abbiamo un decesso legato al Covid, si tratta di un uomo di 75 anni di San Benedetto del Tronto con patologie pregresse. Inoltre, nel numero di contagi, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 172, di cui 68 in provincia di Macerati. I ricoveri invece sono in calo. Negli ospedali della regione ci sono 8 pazienti in meno rispetto a ieri, quindi il totale è di 79 ricoverati. Un nostro reporter di strada ci ha segnalato un sinistro, un incidente accaduto poco prima delle 13 in Viale Romagna a Gimarra di Fano. In base ai rilievi dei vigili urbani, pare che una ragazza di 26 anni a bordo di uno scooter non abbia rispettato il rosso all'impianto semaforico, finendo così contro una Fiat Punto guidata da una donna che proveniva da via Villa Giulia. Entrambe le conducenti ne sono comunque uscite in lese. Cambio al vertice della Guardia di Finanza, nelle fiamme gialle di Ancona, il tenente colonnello Fabrizio Marchetti subentra al tenente colonnello Francesco Salvo nel ruolo di comandante del gruppo della Guardia di Finanza. La pagina degli eventi. Si alza il sipario sull'edizione numero 19 del Brodetto Fest. Una tre giorni dedicata ai sapori del mare e alla riscoperta delle antiche tradizioni dei pescatori fervono i preparativi a Fano per la 19esima edizione del Brodetto Fest, la manifestazione che dal 10 al 12 settembre torna sul lungomare del Lido con chef stellati, spettacoli, incontri con ospiti nazionali, laboratori per bambini e due importanti novità. Sarà un tuffo nella storia e nella cultura fanese, con l'opportunità per i visitatori di gustare il piatto simbolo dell'Adriatico in decine di ristoranti della città al prezzo di 20 euro. Più di 50 poi, le iniziative collaterali alle quali si potrà partecipare con il Green Pass e tramite prenotazione sul sito del Festival. La pandemia ha lasciato il segno, l'anno scorso siamo stati costretti a cambiare il format del Festival, ha dato grandi risultati inaspettatamente perché per la prima volta, non essendo in presenza, abbiamo fatto lavorare oltre 30 ristoratori nei tre giorni del Festival, tant'è vero che era difficile anche reperire il pesce in quei tre giorni ed era lo scopo principale di Confesercenti far lavorare gli operatori. Quest'anno la scommessa di Confesercenti è quella di puntare su due eccellenze della nostra città. Una è una novità e parliamo della pizza col brodetto, è stata studiata da un pizzaiolo fanese e l'abbiamo approvata, è un prodotto eccezionale, nei tre giorni del Festival verrà presentata e verrà anche gustata. L'altro invece puntiamo tutto sulla morezza. E a questa bevanda tipica fanese, ha spiegato Fiorelli, verrà dedicato uno spazio innovativo dove sarà possibile degustarla dalle ore 19.30 alle 22.00, riflettori puntati anche su un concorso nazionale riservato ai barman professionisti che sabato 11 a mezzogiorno si sfideranno sulla preparazione della moretta. Confermati il pala brodetto, il palco della cavea, l'uscita in barca con il professor Piccinetti e Brodetto & Kids, il progetto ludico ricreativo dedicato ai più piccoli. Assessore, un appuntamento molto importante per l'intera costa marchigiana? Beh sì, il brodetto è un driver veramente della nostra comunicazione, possiamo essere orgogliosi di questo piatto che fa parte della tradizione, ma è anche un elemento di accoglienza, perché tante persone vengono da fuori e scoprono in questo contesto una zuppa di pesce che si diversifica dalle altre, fatte più o meno in tutta Italia, ma direi in tutta Europa, e la gara, la competizione, il fatto che ci sia una sfida tra brodetti rende ancora più tutto, ancora più interessante. Per la regione Marche, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, questo è un festival davvero importante su cui investiamo, su cui vorremmo investire in futuro e fare in modo che diventi un elemento di attrazione turistica per i prossimi anni. Attesa al festival tante star della TV, Roberta Capo, Amarino Bartoletti, Tinto e il testimonio al Federico Quaranta, cooking show e spettacoli, anche con le stelle Michelin, come Alberto Faccani, Silvia Baracchi e Michelangelo Mammoliti. Qui all'interno c'è Brodetto, Bianchello, c'è Moretta, c'è una nuova invenzione dove il Brodetto si sposa con la pizza, quindi parliamo di valorizzazione no gastronomica. E in un momento dove sta finendo la stagione balneare, dove crediamo che anche l'enogastronomia, come il benessere, la possibilità di vivere nel nostro territorio, può veramente destagionalizzare, quindi aprire il nostro turismo anche in altri momenti, quindi un format eccezionale, per cui vi aspettiamo tutti nei ristoranti ad assaggiare il Brodetto, ma anche a vivere questi bellissimi momenti di talk show e di cooking show che ci saranno al Lido di Fano. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Costanzo, dove quattro persone sono state evacuate da un'abitazione a causa di alcune crepe preoccupanti comparse nei muri. L'intervento si è svolto in accordo con il sindaco Filippo Sorcinelli e l'ufficio tecnico del comune. La famiglia, composta dai genitori di 80 anni e due figli sulla cinquantina, questa mattina ha contattato il 115 e i pompieri hanno constatato che era necessario uno sgombero per problemi statici della casa. Nel pomeriggio il sindaco ha emesso poi un'ordinanza sindacale, sono stati attivati i servizi sociali. Sorcinelli ha contattato sia l'ambito sociale 6 che la protezione civile di Fano, che ha messo a disposizione un modulo abitativo che si trova nella zona dell'aeroporto e di proprietà del comune di Fano. La famiglia ci rimarrà per qualche giorno, poi ovviamente dovrà trovare una soluzione come un'altra struttura oppure una casa che li possa ospitare. Nelle stesse giornate del festival del Brodetto di cui abbiamo parlato poco fa, c'è a Pesaro invece la fiera di San Nicola. Sarà all'insegna della sicurezza e della tradizione la fiera di San Nicola, una delle manifestazioni più grandi e antiche della costa adriatica che torna ad animare il lungomare pesarese dal 10 al 12 settembre dopo un anno di stop. In linea con le normative nazionali l'accesso sarà consentito solo con il Green Pass, che sarà verificato con doppi controlli a campione nei 26 varchi d'accesso e all'interno nelle vie della fiera. Ovviamente chi abita nelle civili abitazioni e chi va al mare deve rispettare la legge dove lo richiama anche l'uso della mascherina. All'interno invece della fiera l'uso della mascherina e il Green Pass ovviamente sono obbligatori. Questo perché? Perché dobbiamo essere in sicurezza ma appunto tornare finalmente ad una vita, ridare vita alla vita, qualcuno diceva qualche giorno fa. E in un giorno in cui oggi, grazie alla comunicazione nazionale e anche la Presidenza del Consiglio, ha detto anche che si andrà verso il vaccino obbligatorio. La gestione dell'evento sarà carico di Pesaro Parcheggi. Gli espositori saranno più di 400 dislocati nelle vie e nelle piazze del lungomare. Spazio anche ai prodotti tipici regionali con 10 produttori e venditori in piazzale della Libertà. Inoltre verrà potenziato il servizio busnavetta gratuito dal parcheggio San Decenzio. Il mezzo passerà ogni 15 minuti dalle ore 16 alle 23. In occasione della fiera, Viale Battisti resterà chiusa al traffico. Potranno accedere solo i residenti. Cosa anche importante, abbiamo voluto mettere il giorno sabato dalla mattina alla sera, ci sarà il camper vaccinale. Quindi ci saranno persone che potranno fare il vaccino anche senza prenotazione. E insieme al Presidente Luca Pieri abbiamo appunto pensato 24 ore prima, nell'inizio della fiera di San Nicola, nelle farmacie Aspers ci sarà un potenziamento di personale per poter fare il tampone. Quindi diamo la possibilità a tutti di poter entrare alla fiera. Fondamentale entrare con il Green Pass. Al circuito ciclistico Marconi di Fano, oggi pomeriggio è stato accolto il pluricampione di ciclismo Paolo Bettini che ha incontrato i ragazzi della società Alma Juventus Fano. Insieme a Bettini, che è stato campione olimpico ad Atene e due volte campione del mondo, erano presenti anche l'assessore allo sport Barbara Brunori e altri due fuoriclasse del ciclismo, Enrico Paolini e Giovanni Carboni. Un evento straordinario per la città di Fano alla quale Bettini ha rivolto anche un saluto. Sentiamo. Mi dicono di salutare la città di Fano. Io Fano in realtà, ci sono già venuto tante volte, questa non è una novità, ma ci porterei molto volentieri tanti sindaci d'Italia a fargli vedere come si può fare il sistema e come si può tutelare, si parla tanto di sicurezza sulle strade, no? Ciclismo. L'impianto sportivo, c'è di tutto dentro, è a perimetro una bella pista ciclabile, ma fatele in Italia. E adesso, prima di salutarci, guardiamo questa fotografia insieme, si tratta di un cocomero gigante, del peso di 21,5 kg, è stato raccolto a Saltara, nell'azienda agricola di Davide Lazzari. Ed è tutto. Noi ci vediamo domani mattina alle 7, con la segna stampa, il commento della stampa del giorno, occhio ai giornali. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.